Chiampo, incendio la scorsa notte poco dopo le 3.30 nel cortile di un'azienda di produzione di attrezzature per l'aria compressa in via Vicenza. A fuoco alcuni bancali di materiale di scarto da riciclare depositate all'esterno della ditta. Sul posto i pompieri di Arzignano, intervenuti con due automezzi, hanno spento le fiamme che intanto avevano intaccato dei finestroni in plexiglass, facendo penetrare il fumo nero all'interno del capannone. Si esclude il dolo, le operazioni di spegnimento del rogo emesse in sicurezza sono terminate all'alba.